Disney, il re leone, il leoncino coraggioso. Un giorno Simba sarà re, ma adesso sta ancora imparando a diventare forte e coraggioso. Il padre, Ufasa, mostra a Simba il loro regno, la terra del branco. Il re avverte Simba di stare lontano dal posto all'ombra, che si trova oltre il confine del regno. Lo zio di Simba, Scar, è molto geloso del giovane leoncino. Io sarò re, pensa, non Simba. Scar ha domanda, Simba, tuo padre ti ha portato nel posto all'ombra? Lui mi ha detto che non ci devo andare, risponde Simba. Scar non riesce a nascondere un ghigno. Solo i leoni più coraggiosi possono andarci, afferma Scar. Lo zio malvagio vuole mettere in pericolo Simba. Beh, io sono coraggioso, esclama Simba. Poco dopo, lui e la sua amica Nala si dirigono verso il confine. Il posto all'ombra è un pauroso cimitero di elefanti, pieno di iene impazienti di gustarsi una cena a base di qualsiasi leone che si aggiri negli intorni. Quando Simba cerca di difendere se stesso e l'amica, le iene lo prendono in giro. Per fortuna arriva l'infuriato Mufasa, e le iene smettono subito di ridere. Simba è dispiaciuto di aver disubbidito al padre. Volevo soltanto essere coraggioso come te, si giustifica. Mufasa sorride e rivela. Io sono coraggioso solo quando devo esserlo. Un giorno, quando Simba sarà grande, dovrà dimostrarsi coraggioso per salvare il regno d'Ascar. Troverai il coraggio? Certo che lo troverà. Certo che lo troverà.